ah beh parliamo un po di aggiornamenti fisici visto che il mister olimpia si avvicina e questo è un altro aggiornamento di big rami che è rimasto in silenzio per molto tempo ma ha ripreso alla grande a postare con degli ottimi aggiornamenti vi rimando a questo video che ho fatto che si chiama game over perché in una settimana poco più in una decina di giorni ha pubblicato un bel po di aggiornamenti davvero nobili e convincenti con una buonissima definizione per essere a poco meno di quattro mesi dal mister olimpia e qui si può apprezzare la definizione sicuramente molto buona come detto non penso che ci siano dubbi sul fatto che vincerà anche quest'anno il mister olimpia cioè potrebbe vincerlo qualcun altro solo se cagasse fuori lui stesso in pratica cioè mi sembra impensabile anche solo immaginare che qualcun altro possa vincere il mister olimpia comunque ottimo aggiornamento e penso che faremo più video di aggiornamenti una cosa che non ho mai fatto in generale però avvicinandosi al mister olimpia mi sembra cosa interessante vedere un po come siano messi tutti i partecipanti per quanto gli aggiornamenti non si traducano poi in una prestazione nobile sul palco perché chiaramente sono fatti con delle luci perfette con filtri perfetti via dicendo ogni tanto capita che magari bodybuilder poi deludano una volta saliti sul palco però ottimo aggiornamento di bigrami come detto non penso che ci siano davvero davvero dubbi poi se vi capita mandatemi neanche altri aggiornamenti quando c'è qualcosa di interessante da dire passando invece a samson dauda che anche lui è qualificato al mister olimpia porta una definizione così così sicuramente inferiore a quella di rami rami san più definito pur non essendo a livelli di condizione da palco è parrebbe che samson pesi 330 libre o 150 kg e fa tutte le pose obbligatorie lui ha fatto davvero una buona impressione all'arner classic di quest'anno forse insieme con bonac che ha preso un secondo posto che sa di ladrata come detto 3 miliardi di volte è quello che mi è piaciuto di più è davvero molto estetico e bello da vedere pur mantenendo delle masse importanti molto molto completo e mi fa ridere il fatto che quando i bodybuilder postano questi aggiornamenti sono sempre in posti assurdi alla casa rami vabbè non era a casa però era in bagno samson è nel corridoio vicino alle scale sicuramente sono posti dove c'è una luce ottima che secondo me è anche superiore rispetto a quella del mister olimpia comunque questo è un ottimo aggiornamento non ha grossi punti deboli deve chiaramente definirsi però ha una densità muscolare molto molto buona è molto completo è molto estetico ogni posa è molto convincente l'addome in controllo belle proporzioni quindi secondo me è uno che potrebbe fare davvero bene al mister olimpia di quest'anno quindi mentre fa la most muscular in attesa di altre gare penso che farò qualche aggiornamento in più sulle prep dei bodybuilder perché comunque sono interessanti soprattutto quando sono nobili buona grazie a tutti Grazie a tutti.